Un saluto agli ascoltatori di Sporto Pontino e di Telegolfo. La partita con Ipomezia adesso ci siamo abituati ad affrontarli, è complicata. Noi la prima mezz'ora non dovevamo stare in svantaggio, dovevamo stare in vantaggio, se non di uno, ma anche di due gol. C'è stata una produzione industriale di palla ai gol importante. Sono state tre, quattro occasioni importantissime e altre che non si sono materializzate come conclusione, ma siamo stati veramente a un passo da assegnare. Eppure è uscita di poco, il difensore all'ultimo, un po' di sfortuna, un po' di imprecisione, però l'unico mezz'ora prima occasione, grazie ad un autogol, si è portato in vantaggio. E poi il colpo di Grazia, sembrava il colpo di Grazia, quello a fine primo tempo, di Sbordone, un gran gol. Forse potevamo stare un po' più attenti, però comunque ci hanno punito con veramente le uniche due occasioni. Poi diciamo che loro avevano diverse assenze e quindi non hanno potuto attingere a ulteriori forze come nelle altre partite nel secondo tempo. E questo ci ha permesso di essere molto aggressivi perché comunque la squadra è un po' la resistemata un attimo per provare ad essere ancora più incisiva e a crederci di più. Non nascondo che il secondo gol è stato una mazzata terrificante per me, per la squadra e per tutti perché comunque non meritavamo quest'altra lezione, diciamo, dal punto di vista calcistico. Poi comunque la squadra non ha mai mollato, Roberto Galeazzi in primis, ma dietro di lui tutti gli altri, insomma, hanno poi condotto un finale gara arrembante dove magari in secondo tempo abbiamo prodotto anche meno. Però abbiamo avuto il controllo della situazione con una struttura molto aggressiva, con tanti attaccanti e una proiezione costante. Alla fine abbiamo raccolto un pareggio che se analizziamo tutta la partita è meritatissimo. Quindi, anzi, non abbiamo nemmeno troppo festeggiato perché abbiamo la mano in bocca, perché noi possiamo vincere partite di questo calibro in questo momento. Comunque, proveremo poi da domenica arde a fare questa rincorsa che appare impossibile, ma noi ci crediamo e proveremo con tutte le nostre forze a salvarci. A presto. Grazie.